Progettare giardini ci dà l'opportunità di contribuire a rendere il mondo un luogo più bello e quindi migliore. Grazie anche al nostro lavoro le persone possono trascorrere dei momenti sereni e felici a contatto con la natura e quando questo avviene ovviamente la nostra gratificazione è massima. Non è possibile però raggiungere un risultato del genere da soli. È assolutamente necessario il contributo fattivo della committenza. È necessario cioè che si instauri uno scambio di idee proficuo e stimolante fra noi e i proprietari del giardino. È ciò che è avvenuto nella realizzazione del giardino per una famiglia trasferitasi in Italia alla ricerca di una vita più serena e che ha deciso di adibire una parte della propria residenza a B&B. Non tanto per ragioni economiche quanto per avere l'opportunità di incontrare nuove persone e di non rinchiudersi in un buon retiro isolato. Grazie al rapporto di stima reciproca che si è venuto a instaurare e al continuo scambio di idee siamo riusciti quindi a dare vita ad un giardino da cui traspare l'armonia e l'amore per le cose semplici della vita che caratterizzano i nostri committenti.